Grazie a tutti i tuoi nomi. E' un messa che la mancio. No, 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 no. Per colomante è un uombre di mio caro di mia anima. E' un perci. E' un messa che la mancio. E' un messa che la mancio. E' un pelo, wey. Se le quemano il decreto? E' un messa che la manci garantissima. E' un messa che la mancio. E' un messa che la mancio. E' un messa che lo ciò che la mancio. Sì! Tienes 50 anni, non è vero? No, non è vero. Uno di un cavolo. E' un di cavolo. Nunca abbia seguito un motivo e gratis. E meno gratis. Tenia che stare io per venire a fare il show. No Osvalk!! Il video!! Un fave! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.